Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Ma questo è un sogno, cioè siamo alla... Non ce l'ha sorgato questa sera, quindi per me è bellissimo perché di solito lei mi blocca sempre invece questa volta è una goduria per me perché posso finalmente fare quello che voglio ha risolto giallo, distruggere la puntata proprio comunque io sono sempre Nicola Mazzavillani ormai è automatica la cosa e questa sera sono circondato da nuovi ospiti questa sera da tanti nuovi ospiti tra cui un'autrice che ormai è di casa praticamente diciamo nuova abbiamo questa sera ben quattro autori abbiamo Giuseppe Battarino, Ambretta San Pietro, Fiammetta Rossi e Paola Varalli benvenuti Rezzemola benvenuti a tutti benvenuti a tutti allora voi siete qua perché innanzitutto? Cioè domanda fondamentale perché qui non c'è qui non c'è Alessia di solito Alessia è quella che organizza tutto prende impegni e cose sa tutto sa quello che succede io arrivo solo e devo star seduto e importunare gli ospiti quindi questa volta purtroppo la Varalli è già un'esperta io lo so che è disturbatore quindi questa sera invece io devo essere composto e vi chiedo la più composta è la curatrice allora facciamo parlare subito la curatrice a lei la parola buonasera a tutti benvenuta Ambretta per presentare l'antologia dei liti di Lago Sette facciamolo vedere brava brava vedete la Varalli ormai la possiamo prendere come come testimonial dei l'antologia è edita da Morellini e contiene 21 racconti che gialli che hanno la particolarità di essere tutti ambientati in località di lago ok quindi qua in Lombardia no in vari posti per esempio abbiamo il Lago Maggiore il Lago d'Orta il Lago di Varese il Lago di Lugano parte italiana e parte svizzera abbiamo il Lago Sirio il Lago di Fimon il Lago e abbiamo anche il Lago Chad e abbiamo un laghetto nel Chad in Africa ah ok che è nata se vogliamo la vita umana ah ok e abbiamo anche il Lago di Tremorgio e poi non mi ricordo se l'ho detto il Lago d'Orta sì sì l'abbiamo detto l'abbiamo detto tra l'altro Lago d'Orta a me piace tantissimo bellissimo bellissimo vabbè non l'abbiamo chiesto te non è che faccio la disturbatrice sì 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 ma cioè in questo momento devi stare più composta e come mai questa idea tra l'altro sono tutte storie non legate tra l'altro sono tutte storie a sé stanti sono tutte storie a sé stanti di 21 autori diversi e ogni autore racconta ammazza qualcuno ok poi pian piano l'umanità finisce non c'è più nessuno da non c'è più nessuno da ammazzare ma non tutti però non possiamo non viene uccisa la curatrice perché se no giustamente comunque tanti ce ne sono parecchi e quindi noi qua abbiamo tre autori di tre storie diverse o tre autori di una storia tre storie diverse interessante partiamo dalla Varalli la Varalli si intitola credevo peggio la sua storia credevo peggio il titolo è credevo peggio no è il nome di una barca che sta ormeggiata a Varenna sul lago di Como eh ragazzi ce ne parli succintamente c'è una che sbarca una ragazza che sbarca dal traghetto e si recca in questo porticciolo e cerca ha un bigliettino perché cerca questa barca che si chiama credevo peggio lo vede la scritta sullo specchio di poppa e finalmente sale a bordo e da qui nasce tutta una vicenda un po' delittuosa un po' romantica e anche un po' di mafia ah cioè un po' dentro tutto ok sì e vabbè poi questa la facciamo questa la facciamo dopo questa la facciamo dopo è stata la prossima domanda passiamo a fiammetta invece il mio invece si ambienta è ambientato ai laghi di santa marta che sono dei laghetti molto piccoli ma bisognava trovare un luogo lacustre non te ne bastava uno dovevi prenderne di più sono tre uno più piccolo dell'altro però sono molto carini e sono nella lomellina due passi da vigevano dove io vivo noi abbiamo il fiume naturalmente però serviva un lago e quindi lago fu ok a me piacciono molti i romanzi storici quindi il mio è ambientato all'inizio degli anni sessanta quando vigevano era all'apice della sua potenza quanto a calzaturifici ok e un giorno nella nebbiosa lomellina che la nostra è la pianura padana terra di nebbie viene trovato il cadavere di un operaio e forse è stato ucciso da dei malviventi forse un regolamento di conti forse non si sa chi investica non gliela conta troppo giusta e quindi c'è qualcosa sotto c'è qualcosa sotto non è qualcosa di normale esatto ok e adesso tocca a te Giuseppe ma io non so che carta giocarmi loro sono state bravissime forse quella della non normalità perché il racconto si chiama scontenti del nome cioè allora scontenti del nome credevo peggio credevo peggio la peste bianca cioè acchiappano acchiappano sono sono molto cioè allora vi dico subito la mia impressione sembrano dei gialli che abbiano un qualcosa cioè per il tipo di titolo anche qualcosa di leggermente ironico la morte bianca insomma la peste peste bianca insomma però pensavo peggio vedevo peggio scontenti del nome scontenti anche scontenti del nome scontenti del nome ma no ma l'ironia l'hai corta subito perché perché ed è un giallo ironico è un po' ironico io prima ho messo in un certo posto che è il lago di Lugano ok dalla parte italiana con lezza fondamentalmente ho messo lì i personaggi poi mi sono accorto di avergli dato dei nomi totalmente ok ma dei quali non potrevano essere contenti ok scontenti del nome i personaggi scontenti della loro vita e riescono a intrecciarsi in una maniera gialla e c'è una sorta di ribellione dei personaggi verso l'autore per avergli dato dei nomi così un condottore acutissimo mi sono impressionato non c'è l'assorgato e lui riesce finalmente a tirar fuori il meglio esattamente l'assorgato lo venga sempre adesso mi ammazza è così perfetto quindi a un certo punto si perde un meccanismo sì sì attenzione signore che se no non riesco aspetta che lo ridico bene dai ridillo se no non riesco a sentire cosa dice un condottoriale a un certo punto scatta un meccanismo di ribellione alle loro vite ma anche ecco non diciamo altro che se no facciamo spoiler la domanda che volevo farvi visto che abbiamo la curatrice ha detto che sono 21 autori 21 autori potrei citare quelli che non ci sono stasera ah qui sentiamo Francesca Battistella Angela Borghi Mercedes Bresso Fabrizio Catalano Emilia Covini Federica Cunego Aldo Dallavecchia Mariano Equizzi Dario Galimberti Erika Gibogini Aldo Lado Riccardo Landini Giorgio Maimone Alberto Pizzi Silvio Raffo Sergei Roic Patrizia Rota e Laura Veroni Mamma mia Maimone Maimone anche lui figura storica sempre la camicia giusta per la puntata di Risolto Giallo mi diceva ognuno ha scritto un racconto e stasera c'è una piccola rappresentanza una piccola rappresentanza una piccola delegazione diciamo e tutte queste storie mi diceva prima Fiammetta che la sua è ambientata negli anni 60 giusto anche le altre storie sono ambientate in quello stesso periodo oppure anche lì c'è libertà nella scelta dell'ambientazione chiaramente tutto viene anche nel periodo anche nel periodo sì sì anche nel periodo di ambientazione come preferisci per esempio c'è uno che è ambientato all'inizio del secolo che è ambientato sull'isolino Virginia è il racconto di Angela Borghi l'isolino Virginia del lago di Varese è anche un sito unesco ok ok la tua Varali il mio è attuale la tua è legata il mio è attuale ok sì sì del novecento scusate che ormai siamo sì quello io il mio è contento il tuo è ok ok perché da come è iniziato pensavo la mia non ha non ha periodo è successo l'altro ieri esatto quindi una visione di quello che succede una visione del futuro criminale magari potrei dire una cosa che c'è una una forte un forte legame con la con le località di ambientazione perché la nostra idea è anche quello di invogliare chi legge questi racconti a visitare i luoghi del delitto ci sono tutti tutti i posti bellissimi molti sono vicini sono proprio a portata di mano e quindi quindi per incentivare anche un po' il turismo sotto questo aspetto anche nel nostro piccolo assolutamente questa è la la settima antologia pubblicata con Morellini e abbiamo avuto il riscontro che per le precedenti antologie ci sono state persone che si sono incuriosite e sono andate a visitare questi posti abbiamo saputo anche che una delle precedenti antologie è stata utilizzata come lettura di classe al liceo Calalberto di Novara e che gli studenti hanno gradito molto questo aspetto di poi poter andare a visitare i luoghi più vicini alcuni li conoscevano già alcuni li hanno scoperti e hanno scoperto anche che erano molto vicini a loro c'è una domanda che volevo fare stavi per chiedere se i voli per il lago Chad c'è stato un aumento quello non lo sappiamo ancora ma l'autore tra l'altro oggi non c'è perché si trova in Canada ah ok cerca di un altro lago no è il poeta di Leonardo Shasha che sta portando in scena una piesta teatrale ispirata un po' a che ah bene bene per quanto riguarda la scelta dei laghi la scelta da parte chiedo ovviamente ai attori qui presenti è stata una scelta quindi molto più personale come nel caso di Fiammetta che questi c'erano e su questi ho scritto tra l'altro sono anche laghi artificiali tra l'altro nessuno ha sentito nessuno ha sentito niente nessuno ha sentito niente nel vostro caso invece Giuseppe Paola la scelta è stata di cuore diciamo o per convenienza diciamo perché tutti gli altri erano già stati presi no è stata di cuore in un precedente delitti di lago ho scelto il lago di Varese perché mi funzionava dal punto di vista della storia questo invece è il contrario l'ho scelto di cuore perché sono nato a Lugano ho vissuto a Porlezza quindi in due dei luoghi che si raccontano nella questa storia e oltretutto pensandoci funziona anche abbastanza bene come sviluppo della storia proprio geograficamente quindi di cuore e di geografia ok nel caso mio di cuore soprattutto perché dunque è già il terzo che ho io sono nata a Sesto Calende no lo chiedeva l'ambretta che mi tiene noi depositiamo tutto io sono stordita un po' ve lo dico e niente praticamente il primo allora ne ho ambientato uno a Sesto Calende che è il paese dove sono nata perché io sono del lago maggiore poi però siccome ho casa sul lago di Como allora ne ho ambientato uno a Nesso dove ho una baitella superi bricchi e uno a Varenna dove anche lì hai un'altra che frequento ah che frequenti non hai uno stabilimento tuo no ma le aree no non ancora però ho una specie di casa anche lì di un paesino bellissimo e insomma quindi sono i tre posti che conosco di più l'acustri e lì ho fatto ed è il terzo che scrivo ok una domanda che di solito faccio io perché l'assorgato essendo una divoratrice di libri fa molte più domande legate al libro io vado molto più a livello generale è una domanda che chiedo sempre ai nostri ospiti lo sa assolutamente come nasce il rapporto della scrittura tra gli ospiti nei nostri ospiti come nasce questa voglia di scrivere molto spesso è una passione che va fin dalla giovinezza altri è per un po' fuggire dalla quotidianità e vorrei chiederla fare questa domanda anche voi inizierei subito con confiammere questa domanda brucia pelo così in realtà scrivevo favole per mia sorella più piccola da quando avevo 7-8 anni poi strappavo i quaderni i fogli dei quaderni con grande gioia di mia mamma perché non ti piacevano le storie che scrivi strappavo per fare la mia edizione personale anche la copertina bello e poi le leggevo a mia sorella che poveretta lei stava lì era la vittima sacrificale non ne poteva più e poi crescendo ho fatto tutt'altro nella vita come spesso capita e a un certo punto invece mi sono trovata che mi piaceva tanto leggere sempre di più mi piaceva ancora di più raccontare e quando raccontavo mio marito per primo mi diceva ma tu perché non te lo trasformi in mestiere questa cosa qui e allora ho iniziato così più di 10 anni fa e via così è andata quindi sono contenta bene bene e invece la curatrice la curatrice come nasce invece il suo rapporto col con il mondo del libro con la scrittura con lavorare nell'editoria anche per me è una passione perché io ho fatto ho svolto un'altra professione nella vita e beh dall'amore per i libri per la lettura i miei zii avevano una piccola casa editrice quindi un po' sempre respirato un po' questo mondo certo e poi insomma pian pianino non so neanche io come mi sono trovata a curare la prima antologia nel 2012 e questa praticamente è la nona e ho visto che insomma che comunque è una bellissima cosa perché i libri sono belli non scadano mai finché non si sono letti sono sempre nuovi possono avere una vita anche lunga e poi il giallo è il genere più bello il mio preferito però vedo chiamato da molti anche perché nel giallo si possono inserire altri generi non so il rosa può essere la denuncia sociale è molto variegato è molto variegato un po' un contenitore sì 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 l'idea delle antologie è anche quello di fare conoscere dare un assaggio della scrittura di alcuni autori e invogliare magari chi li legge poi a a leggere anche le loro opere perché qui sono tutti professionisti della scrittura certo ogni tanto si inserisce qualche esordiente però in genere sono tutti professionisti noi per esempio come giovane penna abbiamo Federica Cunego che dopo essere stata inserita in questo gruppo dei delitti di lago ha vinto il premio Chiara Inediti per cui insomma ci avevamo visto bene certo certo e invece Giuseppe io ho iniziato a scrivere altre cose nel senso che avendo fatto il giurista per tutta la vita ah eh se c'era qua l'Alessia ma infatti questo era un terreno partiva subito con lei perché lei poi lei sta molto attenta poi lo saprete sicuramente lei sta molto figuriamoci lei sta molto attenta ai termini giuridici che vengono utilizzati nei romanzi perché molto spesso capita che magari lo vediamo anche nei film americani vengono tradotti con le parole sbagliate mandato eccetera e così via e infatti la mia scrittura da scrittore è iniziata beh c'è stato un passaggio intermedio perché ho cominciato a occuparmi di letteratura in maniera un po' più seria da grande lettore scrivendo delle cose sui autori che amo su Piero Chiara su Pierpaolo Pasolini il passaggio alla scrittura mia è stato dettato proprio da questa cosa ero stanco di vedere cose scritte male e allora le ho scritte io pubblicato un primo romanzo una dozzina d'anni fa e poi altre cose di questo genere e anche di altro però con questa idea di fondo scrivere preciso beh questa è una bella motivazione anche perché cioè è importante utilizzare le parole correttamente io poi lo dico a me che a volte uso parole per intendere altro è una cosa sbagliatissima cioè ogni parola ha il suo uso il suo significato questa è una cosa fondamentale anche per esprimerci correttamente con la persona che abbiamo o le persone che in questo caso abbiamo di fronte un'altra domanda avevo prima che ci dimentichiamo posso dire una cosa ma fai quello che vuoi ormai ormai sei di casa volevo dire che i proventi di questa antologia vanno alla gemma rara onlus di Varese è una cosa importante è una cosa molto importante perché i diritti d'autore praticamente tutti noi abbiamo scritto così per amore di questa cosa qui e appunto i diritti d'autore vanno a questa associazione che è un'associazione sulle malattie rare giusto che studia le malattie rare quindi ecco è una cosa bella importante da dire assolutamente anzi hai fatto benissimo a dirlo Paola anche perché il tempo purtroppo è tiranno domanda veloce ci sarà un delitti di lago 8 speriamo di sì abbiamo già parlato con l'editore non nel 2024 ma speriamo nel 2025 se le cose benissimo procedano come facciamo vi facciamo tanti auguri sotto questo aspetto vi ringrazio veramente tanto di essere stati state qui con noi speriamo di rivederci prossimamente io vi ringrazio tutti e noi che dire ci vediamo alla prossima puntata di Risolto Giallo grazie mille grazie grazie a voi ciao 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 quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a Risolto Giallo grazie a tutti